Il River Chieti si è giudicato il primo memorial di calcio categoria allievi Pietro Sibilia battendo ieri sera nella finalissima il Pescara per 2 a 0. Alla cerimonia di premiazione ha preso parte anche Antonio Oliveri, ex vicepresidente del Pescara e genero di Sibilia. La manifestazione è stata organizzata dalla Renato Curi Calcio, del presidente Nicla Corvacchiola e dalla Caldora Calcio. Tanti gli appassionati presenti sulle tribune del Campo Zanni nella tre giorni di gare. Antonio Oliveri finalmente ha anche un memorial dedicato al presidente Sibilia, ci voleva presidente che è stato al timone del Pescara per 18 anni, insomma un atto dovuto il caso di dire? Un atto dovuto no, fa piacere, ringrazio gli organizzatori perché hanno avuto questo nobile pensiero verso la figura di mio suocero e li ringrazio, ringrazio io personalmente, ringrazio anche tutta la famiglia di mio suocero che è rimasta commossa da questo gesto, gesto che devo dire è stato molto apprezzato anche da parte di tutti noi. Si riparte da un torneo giovanile perché insomma i giovani sono il futuro del calcio, soprattutto nelle piazze di provincia, qual è anche Pescara? Beh, i giovani sono stati il motore del calcio fino a tanti anni fa. Poi forse si è persa la politica dei giovani in corso di questi anni e può sembrare retorico dire che oggi bisogna ricominciare dai giovani non per il presente ma sicuramente per il futuro. I segnali che vengono dal mondo del calcio professionistico e mi riferisco anche al mondo del calcio della federazione sono tutti improntati sul cercare di ricostruire il mondo del calcio partendo dai giovani. Se non si parte dai giovani il mondo del calcio è un mondo che secondo me continua a perdere pubblico e continua a perdere la passione della gente e delle famiglie. Quindi mi auguro che questa iniziativa possa essere un'iniziativa che possa durare nel tempo e che possa essere una delle tante iniziative che creino il motore di forza e di sviluppo del calcio.